Benvenuti a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari, io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com oggi ci andiamo ad occupare delle proiezioni di Fibonacci, uno strumento molto utile nel calcolo dei target partiamo con l'analisi del nostro Futsimib indice e andiamo a cercare degli spunti per utilizzare le proiezioni quindi tendenzialmente quello che si può fare è andare a cercare delle figure, quindi dei pattern di inversione o di continuazione e partendo dal presupposto che molto spesso l'ampiezza della figura serve come unità di misura per valutare il potenziale del movimento alla ripresa o nel caso di inversione del trend utilizziamo proprio i rapporti Fibonacci per fare queste proiezioni nei libri di analisi tecnica classica si tende a rendere più semplice il discorso del calcolo dei target ad esempio quando siamo in presenza di una figura a doppio massimo come questa nell'analisi tradizionale si parla di un obiettivo che è distante il 100% circa dal livello di rottura, quindi si prende l'ampiezza della figura e si proietta semplicemente quindi in questo caso visto che è una figura di bassista si sottrae dal minimo, dal valore del minimo al di sotto del quale viene completato il doppio massimo questo è un metodo che sicuramente funziona, tra l'altro il 100% è uno dei livelli di Fibonacci ma non esaurisce diciamo il potenziale dello strumento quindi quando abbiamo una fase di compressione di volatilità come può essere appunto una figura di continuazione o di inversione vale sempre la pena di andare a calcolarne l'ampiezza proiettandola poi non solo per il 100% ma in base appunto ai rapporti Fibonacci in questo caso il doppio massimo è quella formata dal picco di novembre e di gennaio del 2022 prendiamo tutta l'ampiezza della figura sappiamo che in analisi grafica ci sono diciamo le condizioni ideali poi nella realtà in questo caso abbiamo due massimi che sono estremamente vicini uno con l'altro è lecito parlare del doppio massimo anche se le due figure non sono, i due picchi non sono allineati in modo millimetrico alla violazione della base del nostro doppio massimo che sarebbe quindi questo minimo possiamo proiettare l'ampiezza della figura per valutare quelli che sono gli spazi a disposizione per il movimento successivo vedete che il ribasso prosegue anche al di sotto del valore del 100% e si va a fermare proprio sul 161,8% che è uno dei rapporti più importanti in questo caso di proiezione della successione di Fibonacci quindi sempre prendere in considerazione quando si fanno le proiezioni dopo un movimento significativo almeno il 61,8% e il 161,8% a volte può essere utile anche considerare il 50% va comunque notato che tutte le soluzioni proposte dalla successione di Fibonacci sono potenzialmente valide comunque ecco diciamo che già concentrandosi anche sul 61,8% e sul 161,8% non solo sul 100% si ottengono degli ottimi risultati qui avevamo invece una figuina per cui abbiamo visto il caso di un doppio massimo qui abbiamo un doppio minimo anche in questo caso i due minimi della figura non sono perfettamente allineati notiamo però che il primo minimo, quello di luglio era formato a sua volta da un piccolo testa a spalle rialzista e il secondo minimo da un doppio minimo capita molto spesso durante le figure di inversione che almeno uno dei minimi sia formato a sua volta da un'altra figura di inversione tipico il caso del testa a spalle dove molto spesso la testa è formata o da un doppio massimo o doppio minimo o a sua volta da un'ulteriore testa a spalle anche in questo caso possiamo prendere come riferimento tutta l'ampiezza del movimento quindi dal massimo al minimo e al superamento del massimo di agosto scorso anno abbiamo visto il completamento della figura possiamo in questo caso quindi proiettare l'ampiezza sempre tenendo come riferimento tutti i numeri messi a disposizione da Fibonacci vedete il 50% in questo caso si è dimostrato molto importante sul primo movimento di rialzo al superamento del 50% i prezzi avevano disdegnato diciamo il 100% ma si sono fermati poi sul 161,8% che torna quindi come nell'esempio precedente ancora una volta di grande aiuto andiamo ad esempio a verificare con questo testa a spalle che vi ho già menzionato che cosa è successo dopo il completamento del testa a spalle questa è la figura la neckline sarebbe stata questa quindi se prendiamo l'ampiezza del testa a spalle dalla verticale al minimo sulla neckline e la proiettiamo dal punto di rottura vediamo che in questo caso ad essere toccato è stato invece il 100% quindi un caso diciamo più classico più allineato con quello che ci insegnano i libri di testo dell'analisi grafica tradizionale andiamo a prendere il Nasdaq 100 e guardiamo se ci possono essere altri esempi che fanno al caso nostro anche qui abbiamo una situazione di doppio minimo simile a quella che abbiamo visto prima vedete anche in questo caso il primo minimo della figura è quello di ottobre lo scorso anno il secondo minimo è stato disegnato tra dicembre e gennaio e anche in questo caso è a sua volta un piccolo doppio minimo quindi prendiamo l'ampiezza della figura dal massimo al minimo calcoliamo, usiamo il nostro strumento di rifiacciamenti per poi utilizzarlo come proiezione proiettiamo appunto l'ampiezza della figura dal punto di rottura che è il massimo di dicembre in questo caso vedete il 161,8% ancora una volta abbiamo visto che il 50% si è dimostrato abbastanza importante ma soprattutto è il 161,8% di proiezione la resistenza sulla quale da un po' di tempo si sta notando una lotta serrata da parte del mercato per decidere se andare o meno oltre quei livelli le proiezioni abbiamo visto utilizzate sui pattern sono utili anche nel caso vediamo di allargare un po' l'orizzonte temporale sono utili anche nel caso del ad esempio dei canali vediamo se qui riesco a trovare subito un esempio che fa al caso nostro qui abbiamo un canale rialzista e voi sapete che proiettando l'ampiezza del canale dal punto della violazione in questo caso della violazione della sua base si ottiene un possibile obiettivo per il movimento dei prezzi quindi andiamo a prendere ancora una volta utilizzando i ritracciamenti l'ampiezza del canale e la proiettiamo dal punto in cui è stata violata la sua base che più o meno è in quest'area quindi prendiamo l'ampiezza del canale l'andiamo a proiettare e vedete in questo caso abbiamo il primo movimento ribassista dopo la violazione della base del nostro canale che si è posto esattamente sul 100% di proiezione poi c'è stata una fase di rimbalzo la discesa successiva è arrivata in maniera millimetrica sul 261,8% quindi in questo caso addirittura un obiettivo veramente importante molto molto distante da quelli che erano i livelli di origine del movimento quindi vedete come queste proiezioni possono essere utilizzate appunto anche nell'ambito dei canali ovviamente la validità dello strumento abbiamo parlato di canale può essere sperimentata anche quando il canale non è utilizzato per identificare una tendenza ma come in questo caso una semplice figura di continuazione questo è il classico flag correttivo quindi una bandiera abbiamo visto un rialzo flag correttivo un nuovo rialzo vediamo se prendiamo l'ampiezza di questo canale e la proiettiamo ancora una volta dal punto di rottura se riusciamo a identificare degli obiettivi importanti ovviamente quando io vado a fare questo esercizio cosa farò? andrò a segnarmi sul grafico quelli che sono i livelli chiave quindi le terrò memorizzate abbiamo detto che segnerò sicuramente il 100% il 161,8% il 261,8% che abbiamo visto nell'esempio precedente ma non dimentichiamoci che c'è anche il 4,23,6 come livello di proiezione cosa che in questo caso ha funzionato estremamente bene perché ci dà l'area dove si colloca appunto il doppio massimo che si sta disegnando, il potenziale che si sta disegnando in questo momento andiamo a vedere se su qualche titolo del mercato italiano troviamo degli esempi che ci permettono di chiarire ulteriormente il concetto andiamo a prendere ad esempio Stellantis su Stellantis abbiamo visto recentemente vediamo quale tipo di figura possiamo utilizzare qui c'è stato un doppio minimo abbastanza evidente dopo il minimo disegnatosi nel mese di maggio andiamo a prendere l'ampiezza della figura ancora una volta la proiettiamo dal punto di rottura e vedete come in questo caso invece ancora non avevamo trovato un esempio ma eccolo qui in cui il target non è arrivato sul 100% classico di proiezione ma si è fermato sul 61,8% quindi utilizzare questi livelli di prezzo è utile in che modo? quando io vado a calcolare dopo il completamento della figura quelli che sono i possibili obiettivi ovviamente mi tirerò una linea orizzontale in prossimità dei livelli più importanti che ci siamo detti e se i prezzi arrivano in quell'area e come in questo caso in prossimità del mio livello di resistenza si dimostrano in difficoltà andrò a valutare se effettivamente ci sono poi anche altre motivazioni per cui posso immaginare che da quel livello ci sia un nuovo movimento ad esempio di in questo caso di ribasso andiamo a cercare un ulteriore esempio magari prendiamo un titolo bancario vediamo se in unicredit ci sono dei riferimenti interessanti qui c'è stata la comparsa di una figura a doppio minimo ormai è un po' lontana nel tempo ma giusto per avere la possibilità di fare un esempio vediamo se si è dimostrata interessante diciamo la nostra tecnica di proiezione quindi ampiezza da figura proiezione dal punto di rottura il primo livello era il 61,8% che è stato superato in scioltezza secondo livello il 100% invece c'è stata una notevole lotta in prossimità di quest'area e anche sul 161,8% vedete si è disegnata questa figura di forma rettangolare notate come proprio sul 161,8% ci sia stata la comparsa anche di questa candela shooting star come interpretare il mercato quando si avvicina un'area di questo tipo ovviamente abbiamo detto che si tratta quindi sulla carta di una resistenza importante sappiamo bene che le resistenze appunto resistono al movimento dei prezzi ma non sono invalicabili nel momento in cui una resistenza importante viene superata vuol dire che il mercato ha preso la sua decisione e in questo caso la decisione è stata quella di proseguire al rialzo notiamo e non penso che sia una casualità che il nostro livello la nostra linea orizzontale che era coincidente con la proiezione del 161,8% e che era diventata una resistenza importante in quest'area è poi diventata un supporto fondamentale sul pullback successivo a conferma del fatto che quest'area 15 euro che altrimenti non ha un'altra origine come vedete in realtà il massimo precedente da prendere come riferimento era questo del febbraio dello scorso anno ed è molto più alto quasi a 16 euro quindi in area 15 non ci sono cose particolarmente interessanti se non questa proiezione che abbiamo utilizzato possiamo fare un ultimo esempio qui avevamo una figura di forma triangolare nel caso di questo tipo di figure si va a prendere l'ampiezza ancora una volta della figura prima di proiettarla in questo caso l'ampiezza la consideriamo come la distanza che c'è tra il primo massimo o il primo minimo della nostra figura triangolare a seconda di quale sia la direzione in cui si disegna e la linea opposta quindi andiamo a prendere questa distanza dalla linea e facciamo la verticale sul minimo e andiamo a proiettare questa distanza ovviamente dove dal punto di rottura e abbiamo che in questo caso i prezzi sono fermati sul 127,2% che è un livello di proiezione che sinceramente devo dire io non utilizzo è meglio limitarsi ai livelli principali 61,8% 100,161% e magari anche le proiezioni successive come abbiamo visto prima che a volte danno delle risposte interessanti sul lungo periodo vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata vi do appuntamento con il nostro prossimo commento giornaliero invitandovi anche a lasciare un like al video se vi è piaciuto a lasciare un like